Si è parlato spesso in questi anni di Consissa, associato spesso a squadre italiane, Inter, Lazio, Napoli, è un allenatore giusto per una squadra italiana? Sì, Sergio è un allenatore più vicente a Porto, una persona che va a essere sempre nella storia di Porto, è un allenatore, anche parlo benissimo con l'italiano, è una persona che può facilmente arrivare a un grande italiano e conquistare tutti gli obiettivi che ci sono al club che può arrivare. Una persona brava e sicuro che è uno dei allenatori disponibili nel mercato che può fare la differenza. E se vuoi essere uno crack, il suo figlio? Il suo figlio è un crack, è una decisione che abbiamo fatto sul punto di vista sportivo, per cui abbiamo fatto questo accordo con la Gioventus, è un prestito senza opzioni, è un prestito di 7 milioni che può arrivare a 10, è un giocatore importante per noi, vediamo come va, evidentemente un talento come questo costa tanto e per quello la Gioventus ha pagato questo valore. Alla fine c'è un po' sempre della razione emozionale vincolata al suo padre e la scelta che abbiamo fatto noi sul punto di vista tecnico, con il suo assistente, abbiamo deciso che era meglio per tutti fare quest'anno di prestito. Sta facendo bene, peccato per l'espulsione evidentemente e anche per il suo infortunio prima.